Sono un migliaio le persone a Fano che soffrono di disturbi legati all'Alzheimer, una malattia che fa ancora tanta paura e che spesso lascia pazienti e familiari disorientati e rappresenta con il progressivo invecchiamento della società una vera priorità sociale, soprattutto in termini di costo a carico delle famiglie. A Fano esiste dal 2012, grazie all'importante contributo della Fondazione Carifano, una struttura unica a livello europeo, gestita dalla cooperativa Labirinto, dove un'ottantina di pazienti trovano percorsi riabilitativi e di sostegno per un approccio terapeutico differenziato tra persone con problemi di demenza. Il centro servizi integrato diventa un luogo di accoglienza dove la famiglia può trovare una risposta diversificata, multidisciplinare, ma proprio personalizzata per tutti quelli che sono i bisogni di cui un malato e la famiglia necessita durante questo lungo sentiero di accompagnamento alla malattia. Il centro diurno Margherita lavora quindi sulla qualità di vita del malato per aiutare lui e la propria famiglia a vivere la condizione di paziente in modo differente. Ed è proprio al nucleo familiare che la struttura rivolge le proprie attenzioni con il centro servizi integrato, uno spazio di accoglienza per orientare la famiglia nel percorso giusto. Labirinto ha nella sua politica l'investimento sull'alta qualità dei servizi erogati. Quindi abbiamo fatto sì che nell'andare a investire sul centro diurno Margherita si sia tenuta alta sempre di più la qualità del servizio erogato attraverso lo studio della metodologia di intervento per cui stiamo cercando di innovare sempre di più un metodo di andare ad adottare un metodo che abbia, che porti un po' la nostra impronta. La formazione degli operatori e degli operatrici che lavorano all'interno del servizio che sono in formazione continua. L'accoglienza di nuovi progetti anche rivolti ai genitori di malati d'Alzheimer perché laddove c'è una persona con malattia d'Alzheimer o problemi di demenza c'è una famiglia che ha comunque bisogno di essere altrettanto sostenuta.